a ostia l'area che si affaccia proprio sul mare sospetta sarebbe stata segnalata sotto proprio il puntile di piazzale ravennati al centro del lido sul lato dello stabilimento che vi ricordo si chiama stabilimento e alle ore 12 30 circa un bagaglio sarebbe stato trovato chiuso abbandonato sotto la struttura a pochi metri proprio dai bagnanti e dai visitatori parte delle spiagge affonatissime sono state evacuate il puntile è stato letteralmente chiuso a dare il primo allarme sarebbe stato un bagnino sul segnalo di un cittadino che aveva notato una paligetta sospetta chiusa con la combinazione la circostanza insospettita ovviamente il bagnino stesso il quale avrebbe chiamato in modo abbastanza pronto quindi diretto agli agenti del commissario di ostia i quali si sono precipitati proprio nell'area in questo legge di pochi minuti le squadre speciali hanno raggiunto il litorale hanno avviato le operazioni di bonifica la paligetta però si è scoperto poi dopo che era vuota e la situazione è tornata alla totale normalità dunque una segnalazione un allarme che non ha gettato paura che non ha gettato paura